Vi ritrovate ragazzi sul canale di Gellots, in questo video annuncio perché stasera sul canale di Andrew di Twitch Vi lascio il link in descrizione, giocheremo io e Andrew in Coop con lo scopo di distruggere completamente Londra Grazie alle nostre Drakkar e soprattutto cercare di sopravvivere nel multiplayer di Age of Empires 2 Quindi ci vediamo stasera sul suo canale Twitch, link in descrizione e dopo magari teoricamente Troverete le partite se non riuscite a seguirci in live sul mio canale più avanti GG a tutti!